ultimi sei mesi ho avuto due infortuni che ovviamente possono capitare nel calcio alla fine ho giocato l'ultima partita mi ha sentito bene sono tornato con la squadra e mi sento bene fisicamente non sento più dolore degli infortuni e ovviamente sono a disposizione al cento per cento per per dare una mano alla squadra anche se il mister decide di farmi giocare questo sino anche fuori del campo perché sono giocatore già maduro grande e anche da fuori si può aiutare non lo so niente di mercato oggi mia testa è al palermo penso al palermo abbiamo una salvezza importante e l'anno scorso abbiamo fatto una che è stato alla grande abbiamo visto giocatori qua con una madurezza incredibile e quest'anno abbiamo un oltre e dobbiamo portare la squadra avanti e provare di dare il meglio lottare perché alla fine dobbiamo rimanere in Serie A l'esperienza serve tanto in queste parti del campionato per la salvezza e la tranquillità che il lavoro ovviamente dobbiamo lavorare tutti al cento per cento dare il meglio di ogni uno per portare la squadra avanti è una finale per noi anche per loro ma noi ci proviamo e ci pensiamo di giocarla come una finale perché sappiamo che sono tre punti importanti che possono dare una mano per cominciare bene l'anno e abbiamo dimostrato che siamo una squadra viva e ancora c'è strada di camminare e noi siamo pronti per per lottare io penso che che c'è tante partite ancora di di strada ma penso che dobbiamo giocare ogni una al passo domenica per domenica adesso la prima è Empoli pensiamo andare là fare una prestazione buona che porti il tre punti che è importante per noi ho pensato tanto perché sono quella giocata che che porti a casa e la guardi una settimana e ti ripensa ma non ce l'ho nessun ripianto contro di me perché il calcio è di scelta e queste minuto ho scelto di di fare quella scivolata la perché giocatori loro era quasi pronti a fare gol e ho scelto questo alla fine non è andata bene ma dentro di me sto tranquillo perché ho provato tutto per per non prendere gol noi come difensore quello che siamo adesso qua lavoriamo e pensiamo fare bene per per la squadra si sta che una squadra difendono 11 attaccano 11 allora io penso che si prendiamo un gol non è colpa solo di la difesa è colpa di tutti anche se lo facciamo perché è un sentimento di squadra ma noi anche rispettiamo quello che pensano il presidente ovviamente abbiamo rispetto ma il calcio si è dimostrato che di 11 in squadra ovviamente sappiamo che in campo la giochiamo tutta contro 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 il rival contro l'opponente dove dobbiamo essere fratelli tutti dare sangue per l'altro per il compagno che c'è vicino ovviamente in una squadra di 25 giocatori non si può avere rapporti con tutti perché così anche in ogni lavoro tutti abbiamo della personalità diversa e questo ma io penso che basta e sta bene con con che nel campo ogni uno ha disposizione di dare il sangue per il compagno lui ha dato un po di tranquillità perché sua forma di lavoro su e staff danno questo dimostrano tranquillità e ovviamente aiutato perché abbiamo preso qualcun punto in più con lui e speriamo continuare così e prendere punti ogni domenica per arrivare all'oggettivo